Iniziate nel pomeriggio le feste di Halloween in tutta la provincia di Ravenna. Il pomeriggio dedicato ai bambini, la sera le grandi feste a tema nei locali, in collina per le vie dei borghi. A Ravenna la grande festa di Halloween in centro, proposta dal comitato Spasso in Ravenna e dall'amministrazione comunale in accordo con esercenti e associazioni di categoria. Animazioni, spettacoli, travestimenti, caramelle e una caccia al tesoro. Avete fatto la caccia al tesoro? Sì! Allora diteci, che tesoro avete trovato? Una malla a ogni negozio. Una l'avevamo saccheggiata, una l'avevamo saccheggiata. Cosa avete fatto oggi di bello? Abbiamo risolto gli indovinelli. Come erano? Alcuni di friggio e altri. Erano cittini, erano easy. La ricompensa qual era? Ciao ragazze, avete fatto la caccia al tesoro? No! Dovete ancora farla? No! Cosa vi aspettate? Fatti le caramelle. Vi fate un bel augurio? Buon Halloween!